Ciao a tutti, sono Biagio l'esploratore, a caccia di impronte nel bosco. La volpe e la farina sono i nostri amici abituali, non mancano mai nei nostri filmari. Ecco dei caprioli a ruscelle. Deve essere fredda quell'acqua, guardate la temperatura, è 0 gradi. Tenete gli occhi ben aperti, perché tra poco scoprirete chi verrà a bere in questo riuscì. Intanto arriva un tasso in lontananza, una femmina di capriolo, ed ecco un bellissimo lupo che si disseta in piena notte. Avevi moltissima sete! E con lui c'è anche la sua compagna in lontananza. Ops, una ghiandaglia! Forse era proprio lei che nel video precedente bisticciava con la cornacchia. Ciao amici istrici! Sentivo quasi la vostra mancanza! Un bel tasso! Ed ecco un giovane capriolo giù al ruscello! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! E' proprio carino! Ciao istrici! Siete riusciti senza ombrello? Vi farete una bella doccia! Un tasso di corsa ed un cinghiale solitario! Al prossimo video iscrivetevi al mio canale YouTube! Ciao a tutti! Ciao a tutti!